La salvezza della tua anima, e mettiamo un'anima nel corpo, quell'anima del sogno di Gesù Cristo e quell'anima di essere salvata, e il sogno di Gesù Cristo, e il figlio di Dio, e la gloria del mondo. Guardate quanti anime, i fratelli, molti grandi animi. Amen, alleluia. Gloria a Dio Gesù Cristo, Emanuele Santo, Ever more, e la gloria del Dio Gesù Cristo. Gloria a Dio Gesù Alleluia Dio Santo Grazie Signore Gloria a Dio Gesù Alleluia 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 Alleluia, gloria a Dio, Signore Gesù. Alleluia, Signore Gesù. Alleluia, Signore Gesù. Alleluia, Signore Gesù. Alleluia, 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 alleluia gloria a Dio gloria a Dio vieni di qua gloria al Signore Matteo 28 gloria al Signore Maria Magdalena andava a cercare Gesù Cristo verso il corpo il Padre non angelo al cielo che disse il Dore è stato lo fisciutato non è lui scusate come disse a te lo fratto a versetto 5 balancio risposta le donne disse voi raccomende perché io potrei cercare Gesù che sta a prescriso con Cristo e non è qui perché fu usciutato amèna alleluia gloria a Dio gloria a Dio gloria a Dio amèna Gesù Cristo vive secondo quello Gesù Cristo vive che tu sei salvato amèna alleluia se tu credi che Gesù Cristo vive tu salverai la tua anima preme la pinta Gesù parlerà il tuo cuore amèna alleluia il Signore parlerà il tuo cuore siamo stati mandati qua dal Signore amèna alleluia gloria a Dio amèna siamo qua per ammissarvi che c'è il forno con il paradiso amèna amèna alleluia che si chiama il Dio o il paradiso che si chiama Gesù Cristo amèna alleluia gloria a Dio io ti credo questa amèna stasera questo poveriggio prendrai la casa fai una preghiera in giro oltre di poco a Gesù gloria a Dio Signore grazie Signore grazie Gesù amèna alleluia amèna alleluia alleluia gloria a Dio grazie Signore alleluia guidalo 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 signore era un peccatore ma il Signore mi ha salvato il Signore mi ha perdonato anche io facevo i peccati ero ribello anche io ero un peccatore ma un giorno il Signore mi ha illuminato amèna alleluia gloria a Dio mi ha illuminato non volevo che io mi perdere nelle franze terre alleluia non volevo che io ero un peccatore ma il fatto la semplice preghiera è il Signore entrato nella mia vita alleluia così deve essere fatto conoscere la mia vita come l'ha fatta a me l'uomo è fuori al caffè tu che stai scoperto giorno e volta nuovo e l'anziano invocaci a su questo quando sei nella distretta e sarai salvato gloria a Dio amèna alleluia